Bella ragazzi qua il ghiotto, ciao ragazzi, allora eccoci qua, calendario di serie A, l'abbiamo seguita assieme in live, trovate la live comunque su youtube se la volete recuperare, iscrivetevi al canale, like, supportatemi, sapete che sono in quarantena adesso per una settimana, comunque come vedete sto sempre meglio, ho ancora veramente tanto mal di gola, faccio fatica a parlare in questo momento, no per fortuna perché ho preso adesso delle medicine ecco per la gola, però faccio fatica a parlare per tanti minuti, però lo devo pur passare il tempo, quindi in questi giorni non mancheranno i video, le live, non credo di andare in live questa sera, però poi domani penso che una live ci scapperà, magari di giorno un video, di sera una live, vabbè così facciamo arrivare giovedì prossimo quando avrò poi il tampone sperando di essere poi negativo e di uscire di casa. Comunque allora commentiamo, adesso facciamo un video dedicato, approfondito appunto sul calendario della Lazio, prendiamo in esame quello, calendario asimmetrico, le stesse regole appunto dello scorso anno. Allora il campionato inizierà il 14 di agosto e poi si concluderà il 4 giugno se non erro quindi inizia presto, finisce tardi, il prossimo anno poi non ci saranno competizioni mondiali europee, mentre quest'anno sì sappiamo che ci sarà la pausa dei mondiali da fine novembre, poi si riprenderà il 4 gennaio. Quindi praticamente si giocherà dalla prima giornata il 14 di agosto alla quindicesima, ci sarà diciamo un primo segmento del campionato e poi ci saranno i mondiali e poi si ripartirà dalla sedicesima giornata fino alla trentottesima, poi i primi di giugno. Allora il calendario della Lazio, allora secondo me è abbastanza omogeneo quindi non è male, l'anno scorso fu migliore, ricordiamo che questo è il secondo anno che c'è il calendario asimmetrico, l'anno scorso il nostro calendario era stato discreto secondo me. Quest'anno così così, allora io l'ho diviso in vari segmenti, allora vi dico che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 segmenti il campionato della Lazio, li andiamo a analizzare assieme. Allora il primo segmento sono le prime 5 partite che si giocheranno quindi più o meno agosto e settembre, allora noi partiamo il 14 con Lazio-Bologna, poi avremo Torino-Lazio, sappiamo che nella prima partita, nella prima giornata non è possibile affrontare big match o derby, quindi Lazio-Bologna, Torino-Lazio, Lazio-Inter la terza giornata, quindi il primo big match segnatevelo Lazio-Inter, Samp-Lazio e Lazio-Napoli la quinta. Quindi questo è il primo segmento che ho individuato, quindi l'inizio della Lazio possiamo dire che è difficile, perché contando il fatto che nella prima giornata non puoi affrontare big match, ti è capitato il Bologna che forza di quello che potevi affrontare è una delle più ostiche, poi vai a Torino che per noi è sempre un match difficilissimo, quest'anno solo due punti col Torino, poi ospiterai l'Inter di Inzaghi che è ancora più forte rispetto all'anno scorso, vai a Genova con la Sampdoria, magari io andrò allo stadio, è una partita storicamente per noi buona, l'anno scorso abbiamo vinto 3-1, io ero allo stadio, però comunque non è un match così scontato e poi Lazio-Napoli, beh, che ve lo dico a fare, è sempre un match difficilissimo, anche quest'anno abbiamo fatto zero punti col Napoli, quindi un inizio difficile per Lazio, diciamo peggio di così forse non poteva andare. Poi secondo segmento di partite che vanno da Lazio-Verona a Lazio-Salernitana alla dodicesima giornata, passando per Cremonese-Lazio, Lazio-Spezia, Fiorentina-Lazio, Lazio-Udinese-Atalanta-Lazio e appunto Lazio-Salernitana. Quindi questo è un segmento in cui noi dovremo macinare, quindi macinare punti dopo, diciamo, 5 giornate vero difficili, manca un po' di rodaggio della Lazio. Diciamo che è buono avere, diciamo, 7 partite nella prima ma non primissima parte del campionato, diciamo, medie perché è tolto Fiorentina-Atalanta che l'affronteremo in trasferta e che sono sì due big match, ma diciamo big match teoricamente con squadre alla nostra portata, no? Sono leggermente inferiori, per il resto affronti il Verona in casa che non è facile, poi vai a Cremona e vabbè, è sempre un campo difficile però dovresti vincere, Lazio-Spezia devi vincere, Lazio-Udinese non è facile e Lazio-Salernitana. Però ecco, questo è un segmento di partite in cui noi dobbiamo macinare punti perché teoricamente è alla nostra portata. Poi arriviamo alle ultime tre partite prima della pausa mondiale e poi farò una riflessione sulla pausa dei mondiali. Allora, Roma-Lazio alla tredicesima, i primi di novembre c'è il derby, ragazzi, Lazio-Monza e Juve-Lazio. Ebbè, quindi noi arriveremo dopo un inizio difficile, dopo 7 partite, diciamo, abbordabili in cui dovremo macinare punti, arriviamo alla resa dei conti, prima o poi della sosta, con tre partite difficilissime. Perché il derby? Perché Lazio-Monza, al Monza, attenzione, perché è una squadra che già in questo momento è avanti col mercato, teoricamente saranno una brutta gatta da pelare, diciamo. E poi Juve-Lazio, vabbè, che ve lo dico a fare, è una partita sempre difficile. Poi arriva la pausa di più di un mese e secondo me può essere anche che, diciamo, che ci sarà un campionato prima dei mondiali e un campionato post-competizioni ridata. Perché è una squadra che magari ha tanti nazionali, forse noi non lo saremo, vedremo e diciamo che, egoisticamente me lo auguro anche, magari dopo il mondiale potrebbe avere delle difficoltà. Perché nel mondiale ci possono essere infortuni, una competizione che ti porta via tante energie psicofisiche, quindi attenzione. E poi semplicemente una pausa come fu per il Covid, in cui per esempio noi giocavamo tanto bene prima e dopo non è stato più così. Quindi attenzione, diciamo che sarà importante quest'anno, nelle prime 15 giornate, anche per noi, dato che veniamo già da un anno con Sarri, partire subito e macinare tanti punti. Poi ora facciamo un salto temporale al 4 gennaio, alla ripresa del campionato, e qua il calendario ci sorride. Perché prendi in esame un ulteriore segmento di partite, le prime tre, alla ripresa e sono abbordabili. Quindi è bene così che, diciamo, tu rientri con partite teoricamente non impossibili. Perché affronteremo Lecce-Lazio, Lazio-Empoli e Sassuolo-Lazio. Quindi tre partite in cui noi dovremo fare, diciamo, tanti punti. Attenzione perché c'è anche un piccolo trabocchetto. Perché teoricamente, se io faccio un attimo un calcolo sommario, Lecce-Empoli e Sassuolo sono squadre che non offriranno tanti nazionali. Quindi magari sono squadre che ripartiranno subito a bomba. Però, come vedete, non si può mai essere contenti o tranquilli al massimo. Però, diciamo che è un inizio soft. Poi, attenzione, perché andiamo alla diciannovesima giornata, che sarà Lazio-Milan. Quindi chiuderemo il girone d'andata con una nostra bestia nera, il Milan. E qua analizziamo un altro blocco di partite di quattro, a cavallo, tra il girone di andata e il girone di ritorno. Che, ragazzi, qua, secondo me, si decide tanto. Un po' perché a cavallo tra gennaio e febbraio, e lo sappiamo che storicamente si decidono i campionati. O comunque arriva anche magari un po' tra virgolette, non dico la primavera che è ancora presto, però la seconda parte di stagione, un po' di stanchezza. E la Lazio affronterà in sequenza. Lazio-Milan alla diciannovesima. Lazio-Fiorentina alla prima del girone di ritorno, quindi due partite in casa. Verona-Lazio e Lazio-Atalanta. Quindi avremo tre big match in casa e questo, ok. Però, ragazzi, avremo quattro partite di fuoco. Letteralmente di fuoco. Quindi, attenzione. Poi, arriva un blocco di partite di sei, che sono, diciamo, medie, perché abbiamo Salenitana-Lazio, Lazio-Samp, Napoli-Lazio alla venticinquesima, un altro big match, Bologna-Lazio, Lazio-Roma che sarà a marzo nella ventisettesima giornata, e Monza-Lazio. Qua sono sei partite in cui hai due big match, le altre quattro partite sono abbordabili, quindi questo è un blocco di partita abbastanza omogeneo, in cui siamo qua a cavallo tra febbraio e marzo, e dovrai, per forza di cose, macinare i più punti possibili. Poi, arriviamo al penultimo blocco, Lazio-Juva alla ventinovesima, Spezia-Lazio, Lazio-Torino, Inter-Lazio alla trentaduesima, Lazio-Sassuolo e Milan-Lazio. Quindi, questo è un blocco difficile, perché affronteremo tre big match, la Juve in casa, l'Inter a Milano e il Milan a San Siro. Quindi, praticamente, noi in tre partite andiamo due volte a San Siro, e sappiamo che, storicamente, per noi, ma per tutti, non è un campo difficile. Poi, andremo alla Spezia, che si dovrà giocare alla salvezza, Lazio-Torino è un match, per noi, sempre di merda, scusate il francesismo, e Lazio-Sassuolo è una squadra sempre ostica. E poi, attenzione, perché c'è il classico finale a trabocchetto, perché noi, nell'ultimo blocco di partite, che andrò ad analizzarvi, avremo quattro partite, praticamente, con squadre che probabilmente, è molto probabile, lotteranno per non retrocedere. E quindi è proprio il momento peggiore per affrontarle, perché avremo Lazio-Lecce e i giallorossi, o saranno già retrocessi, ma alla quart'ultima, non credo, giocheranno per salvarsi. Udinese-Lazio, magari l'Udinese no, però chi lo sa. Lazio-Cremonese, alla penultima, magari i grigiorossi, i poverini, saranno già retrocessi, può essere, non glielo auguro, ci mancherebbe, e poi è in polilazio. Quindi, attenzione, perché il finale, sempre discesa, chi ha poca esperienza nel masticare calcio, dice, eh vabbè, le ultime quattro, male che vada, ne vinciamo tre, ne pareggiamo una. Eh no, per cavolo! Perché se queste squadre saranno in lotta per non retrocedere, ragazzi, dovremo rimboccarci le maniche e sudare sette cammini. Quindi, ragazzi, per fare un'analisi finale, il calendario è abbastanza omogeneo, però mi viene da dire che comunque è un calendario non benigno, per no, è abbastanza duro, c'è un inizio notevole, un finale, secondo me, un po' a trabocchetto. Comunque, iniziamo con Lazio-Bologna, finiamo con Empoli-Lazio, dove invece abbiamo iniziato quest'anno, ricorderete, Empoli-Lazio, speriamo che, ecco, sia una stagione che ci regali tante soddisfazioni, l'ambizione sicuramente è quella di provare a lottare fino alla fine, per il quarto posto. Ragazzi, voglio sapere la vostra, like al video, iscrivetevi al canale, bella!